A D'Agrigento l'Associazione di Volontariato e Protezione Civile Fenice ha organizzato e sostenuto la quinta edizione della colletta alimentare a favore dei bisognosi. Ascoltiamo in proposito Rosalia Sodano Carrabba dell'Associazione Fenice. 8 anni fa nasce ad Agrigento un'associazione di volontariato denominata Fenice. 7 anni fa abbiamo deciso di iniziare a fare la raccolta alimentare dando tutto in beneficenza alle persone che ne hanno bisogno. Soprattutto quest'anno diamo tutto alle persone di Villa Seta. In questo momento ci troviamo alla concattedrale di Villa Seta. Dobbiamo ringraziare Padre Gioacchino che ci ha permesso di ospitarci in questa struttura e in questa stanza. Anche perché già da un paio di anni non avevamo più una sede tutta nostra visto che ci è stata tolta dalla nuova amministrazione. Adesso ci troviamo qua. Questo è il risultato della nostra fatica ma è stata fatta una fatica con il cuore perché noi abbiamo raccolto lo spirito del Natale che è quello di donare e non quello di ricevere. Giusto per fare due dati abbiamo raccolto 373 kg di pasta, circa 84 kg di zucchero, 74 litri di latte, altre scatolame, olio e quant'altro. Stiamo appunto dando tutto e lo diamo con il cuore. L'associazione volontariato di protezione Fenice è soltanto una parte perché mancano altri volontari. Vi auguro a tutti buone feste e buon Natale. Mi raccomando donate. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!